Siamo nel campo di concentramento di Mauthausen, campo di lavoro non di sterminio ma poco importa perché stiamo osservando insieme al sindaco di Torre dei Passeri Giovanni Mancini con mano una tragedia che ha sconvolto l'intero genere umano. Si diceva è brutto ricordare e doveroso tramandare alle attuali e alle future generazioni. Il motivo della nostra visita qui ormai annuale che si ripete da diversi anni, quest'anno siamo qui a Mauthausen, è la seconda volta che veniamo quest'anno siamo ripartiti dopo la pandemia e ci troviamo in questo campo purtroppo di sterminio di lavoro tragico della storia dell'umanità. Siamo con i ragazzi delle scuole medie dell'istituto Alberto Manzi dell'istituto tecnico economico seguiti anche dalla preside dirigente scolastica Antonella Pupillo e da diversi professori delle due scuole insieme a 40 studenti che hanno sostenuto il ormai ben consolidato progetto del comune con la collaborazione delle scuole appunto coordinato quest'anno dall'assessore alla cultura Valeria Argentieri dal nome i giovani ricordano la Shoah. Siamo qui anche con il vice sindaco e con anche altri cittadini di Torre dei Passeri per fare in 55 questa visita a valle di questo progetto e ricordo di tutte quelle atrocità che sono accadute purtroppo più di 70 anni fa. Per concludere, sono progetti a cui il comune di Torre dei Passeri ha dato piena linfa in precedenza, la stanno ora e la darà anche forse in futuro? Assolutamente sì, era nel vanto e nella potenzialità delle scorse amministrazioni, lo è e lo sarà anche di questa e delle future sicuramente, tramandare e ricordare tutto questo ovviamente da segnali importanti per le future generazioni ed è questo il progetto che vogliamo fare avvalorare, portare avanti per questi e per i futuri ragazzi delle scuole di Torre dei Passeri. Grazie mille.